Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, oggi è il giorno della forza, oggi è il 4 di maggio, quindi lo Star Wars Day, quindi oggi facciamo un unboxing in tema Star Wars ovviamente. Eccolo qui, direttamente da Rogue One, il casco del Dead Trooper, il casco che cambia la voce e si illumina per essere un Dead Trooper perfetto. E adesso andiamo a fare il Dead Boxing. Eccomi qui per voi, il vostro Dead Trooper. Eccolo qua, ve lo faccio vedere adesso nel dettaglio, guardate che spettacolo, il Dead Trooper, con gli agganci dietro, per regolarlo può andare sia a un bambino che a un adulto bambino. Eccolo qua, guardate che spettacolo, che si illumina, è il primo che ho che si illumina e cambia la voce, è veramente bellissimo. Guardate il vetro verde degli occhi, ve lo faccio vedere come se vedeste voi dall'interno, guardate che spettacolo. Ok ragazzi, spero che questo video per lo Star Wars Day con il Dead Trooper, Mask, Helmet, Change, Voice, Changer, International Broadcasting, Service, Picture and Features vi sia piaciuto. Qui sotto trovate la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale, iscrivetevi al canale, fate uscire i nerd allo scoperto perché sono tanti e devono venire allo scoperto, iscrivetevi al canale, fate iscrivervi al canale e guardate anche le altre playlist che sono tutte carine e interessanti. Ciao ragazzi, al prossimo video. Iscrivetevi al canale.